Comforto abitativo e qualità energetica degli edifici, questo è il tema del seminario tecnico organizzato da Mirtec Team Solutions, un gruppo di aziende qui a Klima House 2016 a Bolzano. Il 28 gennaio è la prima fiera dell'anno e questi temi sono quelli che percorreranno tutta l'annata che ci apprestiamo ad affrontare. Si tratta di protocolli di certificazione, strategie progettuali e anche nuovi prodotti presentati dalle aziende più innovative del settore. Vediamo. Klima House è un appuntamento per noi leader del settore energetico fondamentale anche se di piccole dimensioni relativamente rapportate ad altre fiere e è un concentrato di aggiornamento notevole sui prodotti. siamo anche con lo stand e con Mirtec proprio perché è uno dei puntamenti più importanti per far vedere i nostri prodotti che sono finestre ad alte prestazioni e non solo, finestre che sempre è il massimo dell'evoluzione tecnologica. Basta vedere la storia di Interno per far vedere che ha messo in campo sempre delle innovazioni tecnologici, l'elettronica in primis adesso insieme alle prestazioni per dare prodotti veramente innovativi. Adesso ci troviamo in un punto dell'edilizia che abbiamo dei prodotti fantastici studiati da persone molto accurate, prodotti industrializzati, pacchetti industrializzati. Però il cantiere è ancora un collage, è inutile. Siamo ancora e lo saremo anche per i futuri 50 anni e la costruzione è proprio un collage di questi prodotti e sta lì adesso il segreto del successo. Quindi gli appuntamenti come questi servono per sensibilizzare che c'è bisogno anche di conoscenza oltre il prodotto, di metterli insieme bene e con i servizi, con le strutture giuste. E qua sta l'altra chiave del successo delle aziende leader perché strutturate bene che possono dare un servizio ai progettisti di partnership per ottenere il risultato finale della casa completa ed efficiente in tutte le sue parti e anche nei piccoli dettagli.